Raga mi si esplose il computer, benissimo! Ah, che bello! Mannaggia il vero! Ok, siamo qui, a posto! Giuseppe, guarda i video di un mondo Or chi? Che lo ha? Ma domanda Mini Anna Hitler Mini Hitler Buongiorno! Ma Andrea si sta facendo ancora le seghe? Non lo so... E' proprio lui! Mamma mia, Andrea come sei? Annaggia la miseria Ho trovato un giusto che si stesse ancora a seghe Non lo so! Non lo so! Nel mio che ha fatto la madre E' proprio... E' proprio me lo so! Io ho scambiato! E' proprio tu mi hai entrato! E' proprio tu mi hai entrato! di camminare cammino con scritto no 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 rischietta porti quando perere di violenza contro le ha fatto d'accordo 66 ma io c'ho tutti i raggiungi nooo ma perchè? io la mia tra mamma ma perchè? che è? ho 43? perchè? io sono 40 ah vabbè i 3 eh nel periodo ma non mi ha mandato i 3 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 ma che ti trovo? ma non mi ha mandato i 4 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 chi è reggmino? chi è reggmino? non vuoi reggmino? non vuoi reggmino ma proprio reggmini non vuoi reggmino non vuoi fare reggmini ma è venuta arrivata non è venuta in giro appena finito di lavarsi ragazzi con il culo pulito non esimo teneri come te ne capo che sto trovando di resmini e guadome sono i quali uno che stanno arrivare qui e infatti non lo tengo affetto si manca sull'obietta barb ma ponde mi a negrisciutai vieno con bugul e'n 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 bugul dum-mintenni o gub una l'azione non mi rende la sua non si sa per il nostro problema l'onore del contatto e vai ora ma io io tu sai chi sei in bianco ecco carriol domani manda da parte piezi tutto buono oh oh pop non c'è quello che non lo metterai vicino a me io non lo metterai diventato proprio aggressivo eh, sbuone sigarette eh no, però è vero, un nuovo giroio, veramente come? eh, sbuone sigarette sbuone sigarette, addirittura, non si ha fatto un cannone io vorrei portare buona che trovo? che cosa ne sai? che cosa ne sai? c'è la fuma di iglesiasi sono almer no, no, no no no, è difficile è difficile è difficile è difficile sono troppo piccolino non è più difficile no, no, no vedi qua, vedi qua, bagno con me facciamo con noi andrea matematica e l'unica si è uguale un quadrato di più x e se e se quattro e periodo 0 l'anti periodo esosce ne vedeva di io vedrò vedrò andrò ma no professoressa dragon e chi è troppo che non sanno le armi limitati mannaggia but l'ha già andrì il bagato perché tra su tutti signor che la tua linea hashtag marrabalini marroquini non è il signor a fianco come unire a fianco è come le regole signor a fianco ah è il 4 signor a fianco ma che allegra ti rispondo a dire dammila passo dammila passo come tu sei sempre pronunciato le ardano così tanto per uai tu veramente però sei sempre pronunciato le ardano come un scemo io stai sento la rida non mi piace sui arrivo ma che andrei soferi con una mazza ma che è ricca frossa bimba ma trema mia trossa mi si vede una falsa ma che era delizio non so vede oh cazzo te robo sotto la mano ah te lo fai ecco non vuoi ne spiega stai scritto in palestra fa 2 muscoli vedi dici un messaggio giusto e andrea papo è stato rapido sembra lo zambino del signore signore si signore si signore se c'è ciao adesso si è riuscita a prendere i sette gli amici se l'italia mannaccia la miseria come bosco come sono come oggi mi è arrivato nato ma io poi ora devo modificare con nuovo ci vada poi io vedi dopo noi e gli schi ma poi c'è su questo c'è una volta che non si dava non è stato nella piramide non non è stata scoppi ma non è stato il giorno tuoi fai mamma mia tuoi guardi io non Amore mio! Ehi, abusi! Abusi, vai se percibire il oreo! Ma come è amarono? Ma come c'è? Ah, non c'è amarono! Paolo aio, paolo aio! Amo amou! Amo amou! Ma che linda! Eeeh! Ehi, c'è freddo che come! Ma ho aspa, a darmi alarma! Maio, salta ma coloro! Maio, non mi dèis costa io, che haizonato in buca Maio, non mi dèi esco a te l'aiunica! Maio, sparse! Mamma, ti mostrai una cosa netta. Quasi ucciso, ho vedi ucciso. Verrei, sei. Farono, è amore, faccio ucciso a forno. Ho messo a forno. Give me the shiit, mi fa porto a nette. Mamma mia, ti mostrai una cosa netta. Quasi ucciso, ho vedi ucciso. Si veste un sasciro, io mi senti un messaggio a fare. È un blog. ho fatto i compiti, ho fatto matematica, ho fatto storia, ho fatto pesca, ho fatto escizio numero uno, due, tre, quattro, cinque, tre, tre ho fatto tutto il libro ma naci la miseria ho fatto tutto il libro, e' ma capito? ma non faccio un comitato il libro ma non puoi scrivere sulla mei, dici ho un comitato il libro no, è troppo difficile ojoo, ma che che, che stanno giocando il libro ojoo ma che che, che abbia un giocando il libro ojoo ma che che abbia un giocando il libro si, dove è vero? ojoo aah 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 la gloria verrà per giudicare i miei morti e sorelle non avrò fatto credo pietro dietro minori mi racconti un'altra poesia volevo dire come si dice no dietro come è stato un danno prevedere ci si cosa un'altra preghiera tu vuoi è brava esatto 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 a mio maria piena di grazie il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedette frutto detto sia fatta ma te lo metterò è stato un'impegno pietro pietro non c'è miseria io non ho capito ma tu avete mai visto a lucifero oggi si è chissà luce a gallina si è dopo a netflix ma c'è saluti per guardate e poi non mi ripetono ma è mai pronta fare reti satanici bobo prevedere i smini ma io ma io ma giuseppe è pronta in nome della mela, dell'arancia, della fragola amen scusa ho sbagliato la preghiera preghiera grazie alla prova no quella è la mia di padre quella preghiera la prova è con te sia santi il tuo spirito stiamo a preghiera fruttaiole ma io ma andrea bandole di fondo di gioco ma io ma andrea bandole di fondo di gioco ma io ma andrea bandole di fondo di gioco ma io ma andrea bandole di fondo di gioco raga lo sapete che strappogosce la collaborazione e resmini per rompoti freddi sui casi coppare la parola di tesoie ma si sta parecchando a prendere tutta la sua frutta e comprare e comprare altra frutta per poi venderla al mercato nero raga io ripeto che qua non si vende raga io ripeto quel pane del vicino qua freddi fronde eh olvio apri ma che è un freddo tre freddo che è il freddo freddo e magueno e magueno come la melinda c'è alla banana e caffè il padre di resmini vende tutti i nostri frutta oggi ho fatto vedere smi è vero che non è già frutta fatti e anche le aranci di andrea che frutta volete ho scelto chiama banana fatti questo non è un comportamento da prete e voglio allora mai chiamassi pezzo del prete con la prova ma lo conosci il fatto delle vongole spiegaglielo anzi no io sono io praticamente ha imprevisto è scomparso quando la risposta ropore ora sono uscendo le vongole ero vici quanti da detective ci aspettiamo che i padri abbia dovuto far assaggiare i suoi pacchi i suoi paccheri alle vongole però non lo metto mannano al cocco seppè seppè di chi ha questa banana fatti banana di resmini banana di resmini mannaggia banana di resmini ce ne sono due una quella anteriore e un'altra in vero vabbè era la mina, banana e caffè manca proprio con questo quanti avete messo già di cazzo di resmini no eh no no vuol dire che sape frutta e sape frutta e poi credo che ne sovi e poi va bene quando mi sostituisce mi sostituisce di bestro del frede perché diventano frede perché si chiamava il frede di cognome si mette un fredio poco papa francesco ebbè santo non ti chiede ma vai andino a no ah è bello no te lo giuro 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 ma ho bello capito se sbatt che si c'è? eh buongiorno eh no infatti hai avuto 47 nipoti t'hai sbattuto duecento nipoti t'hai sbattuto duecento nipoti ma hai veramente non mi hai sbattuto? veramente vero nasılı ma come non li sovi ma non parlammi cosiddetti lo islo poi quindi le se il fa i c 버 lo ha dato su i c passes se hai riuscita okay ciao 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 le mani va fai la domenica che ha fatto? e vado a fare i compiti per domenica ho giusto eh svegli venerdì ci sono i compiti per lunedì martini scurrici, orivi, venari i compiti per tutte le nette grossi ha fatto che tutto si è morto ma io ma comunque volete sapere una cosa tengo mouse e spiderman ci sono raggi di capire è reale quando Resmini ha pentito le arance eeeh andiamo no, secondo te va che ci faremo no, è andato come me fa picchia, fa tu te li chiudi non ci credo fa picchia, fa tu te li chiudi che po' bocchemi le non ce l'ha fatta una, o chi? nooo, ma è ballato ho picchia, tu sei giù ok ti serve a farlo ma ho mai scatto, non mi serve ma hai scatto, non mi serve a farlo oh, no, no no, no, no se scendo dove c'è sessendo sessendo ah no, no, no vieni 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 pietro tutti i conti insieme ma ma fa schifo 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 Amo dim 바�msi Per ejection appanati Allora non arrivo Amo giving out il film Che le loro andament Eddfte �' lasciate Adesso non raccogli Non raccogl non vero che tenga capire film ha capito ho capito che io faccio le arti ma che la sto lute ah ma c'ho vedere così perchè devi avanço no io ma non me la scatta di avanço avanço ahah ahah sapevi fragele sapevi provare no 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 sinceramente ha provato che faricchina ma io provo che faricchino non mi piace più è perchè se ci fai ma che cazzo dici andresa fai piccino vado 3 kg vado 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 paron paron tu comunque ti ritrovi vado il comune i ma non è possibile ma non è possibile appunto andresa vicine no no ma non è possibile andresa vicine no c'è il suo saccio andrea ma come va e c'è la bambina vado 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 macci vado 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 la vado i e gir no vado vado lice vado 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 ho vado non non giocherai, non so che game è comunque ma c'è perché è forte, perché ti senti più forte ai primi ma... lo vedi che ha fatto in mano, non mi disse io veramente sono più scarsi ai primi, ma non è in grado ma... se perciò ma giornata non è più ma quando mi hai usato con tutti i suoi mani con me stessi? che pochino ma quando mi hai? ma quando ti ho? guarda quante volte hai giocato eh, mi senti 40 anni dopo è vero o se vuoi facendo un continuo, ma ci sarà ma non mi ha fatto il culetto e ha tastato del boxato come il pallino basta nero e andrea e andrea e domenico te lo dico io non sto trattando come andrea che sta giù eh infatti stai allo stesso livello di nero ma tu mamma che ancora non lo sa poi hai perso riuscire è il cinto no aspetta due mesi ti esce un fratetino che lo dici vedo che cazzo sarebbe sempre io mi sono già neveci in mano che volete come ha persino è 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 di ma anche i cammini che i soldi mani c'è smetta a correre che i soldi ma quindi poi ai ordinati il panino va a pagare controlla nella tasca del giubbino però non c'è niente con la panna perchè lui poi capì deve spendere i soldi che poi quelli erano i suoi capisco capisco ma ci hai fatto 100 e 4 la panna c'è la 16 è una panna è una carbonnata ma questo è vera vera mi manca c'è l'agio mi moda rimane musica che cos'è una testiera non fa i rumori eh che non l'ho che se non riesce a giocare a fortren tu sai alla sera no no il sito poi andrea ha fatto una tuffera e lo so ma il mostr 6 il mostr 3 nuova è falso i 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